Vedere Kazuki Mitsumi Bene, si prepara con l'aiuto della pedana Impennata, sospensione, ascellare, salto avanti, carpiato Sedetta Onma, Ili, una discesa di dorso con un avvitamento Bene, tre quarti di Diamidov e Ili Una difficoltà E Contro Kip in verticale, braccia leggermente piegate, gran volta Molto preciso questo elemento Dal colpo di petto, salto avanti a gambe divaricate Arrivo in sospensione Per poi andare all'estremità Probabilmente qui ci sarà un Tippelt O un Bavsar Ecco, sicuramente un Bavsar Si arriva in sospensione Ritornerà all'estremità come molti ginnasti Per effettuare questa volta Probabilmente un Tippelt La controrotazione in appoggio Salita controllata in verticale Perfetta Dietro front Perde leggermente la linea sulla schiena E il doppio carpio Bravo per stoppare Ma insomma, non è un 3-8 come dicevamo Più basso L'esecuzione Intanto 14-5-66 Per Kazumi Mazzumi Grazie